fondamentali in questi mesi. Nei primi nove mesi di quest'anno i casi di violenza sulle donne tra le mura domestiche sono stati circa 400. I dati riguardano solo il servizio antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano, un trend che non fa distinzione di nazionalità, cetosociale e soprattutto età. Elisabetta Santon. Questo spot si trova sul web ormai da qualche giorno ed è destinato al genere maschile. Il messaggio è chiaro, la violenza è un problema degli uomini che si può risolvere se si vuole cambiare e c'è chi può dare una mano. Lo spot è finanziato da Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione delle Donne Ebre d'Italia. Il soccorso violenza sessuale domestica, centro della Mangiagalli Fondazione Policlinico che lo ha fatto realizzare, documenta una crescita allarmante dei casi di violenza sulle donne tra 2011 e 2013, più 23%. In ambito domestico, solo tra gennaio e settembre 2013 ne sono stati segnalati 386, il 53% in più rispetto allo stesso periodo del 2011 e le segnalazioni nel fine settimana al centralino del servizio antiviolenza svolto da assistenti sociali e psicologhe sono aumentate del 460%. La fascia di età più colpita risulta quella tra i 25 e i 30 anni, ma sono in aumento anche i casi tra le donne che hanno oltre 55 anni. La Regione Lombardia ha stanziato 980 mila euro per promuovere le reti interistituzionali, sostenere il lavoro dei centri antiviolenza che sono 12 in Lombardia e definire progetti personalizzati per aiutare le vittime di violenza a recuperare autonomia. E qui con noi c'è la professoressa Alessandra Kusterman, responsabile del soccorso violenza sessuale e domestica della Fondazione Cagrand di Milano. Allora abbiamo visto in questo spot, uno spot inedito, un messaggio rivolto agli uomini violenti. Perché avete deciso di realizzare questo spot? Perché la violenza è un problema dell'uomo, è un problema di chi l'agisce. Sono anni che tentiamo di fermare la violenza lavorando sulle donne per aumentare la loro capacità di denunciare, la loro capacità di dire no al partner violento. Però non funziona così, bisogna riscrivere la storia, bisognerebbe secondo me appunto partire dagli uomini. Bisogna che gli uomini imparino a stigmatizzare i comportamenti violenti dei loro colleghi di genere, chiamiamoli, e soprattutto bisognerebbe che gli uomini capissero, gli uomini che agiscono la violenza, che ci si può fermare, che la storia non è scritta in modo definitivo, che si può dire no nel momento in cui si sente l'ira che sale, non è necessario aggredire, si può fare in modo di conciliare appunto il punto di vista maschile e femminile. La violenza nasce all'interno delle mura domestiche e ha conseguenze tremende sui figli che assistono. È per questo che dobbiamo fare di tutto, anche con spot come questi, per fermare gli uomini violenti e proporgli il trattamento nel caso che decidano finalmente di fermarsi. Tra l'altro stupisce che molti episodi riguardino anche donne giovanissime, come mai? Perché purtroppo la violenza fa parte della società. L'incapacità di tollerare le differenze, le differenze d'opinioni, le differenze di genere, secondo me stanno peggiorando. La crisi economica anch'essa ha una conseguenza molto importante. I giovani non sono esenti dalla violenza, anzi, l'agiscono senza nemmeno più il limite dato da un superio, insomma da una capacità di dirsi no, non si deve fare. Ecco perché i numeri che sono secondo me spaventosi di questo aumento non si fermeranno se non lavoriamo sulla prevenzione. La prevenzione vuol dire da un lato fermare gli uomini che agiscono la violenza, ma dall'altro vuol dire anche insegnare ai giovani e ai bambini, fin da piccoli, fin dalla scuola materna, una cultura della tolleranza e l'accettazione della differenza tra il genere maschile e femminile. E quanto incide la difficoltà in Italia per una donna di affermarsi anche professionalmente? Incide moltissimo. Per esempio i dati che avete visto di aumento quasi del 50% tra il 2011 e il 2013 dei casi di violenza domestica riguardano tra l'altro donne che hanno in cortemporanea perso anche il lavoro. Il numero delle disoccupate è passato dal 14% al 27% tra le nostre vittime e chi ha un lavoro a basso reddito come colf, badante, operatrice sociosanitaria, sono il restante 25%. Quindi arriviamo di fatto a più della metà dei casi di violenza domestica che arrivano da noi che o non hanno un reddito o ce l'hanno veramente basso. Questo che cosa vuol dire? Che all'interno di quelle mura domestiche purtroppo ci si deve restare. Questo è quello che pensano le donne. Senza la possibilità di essere autonome economicamente difficilmente possano scegliere di uscire da un rapporto violento, specie se ci sono dei figli piccoli. E adesso ascoltiamo la testimonianza di una donna che ha avuto il coraggio di denunciare e poi si è rivolta ad un'associazione che lavora a stretto contanto con voi. L'SVS da donna a donna che assiste legalmente le donne maltrattate. Vediamo. Quella non era la vita normale. Non era una vita normale. Era una vita comunque dove non avevo libertà di pensiero, di parola. Lui lavora nell'ambito della sicurezza e quindi aveva in casa un'arma e più volte sono stata minacciata anche con quest'arma. Mi ha picchiato anche durante il periodo della gravidanza, soprattutto in quel periodo. È tornato a fare il suo lavoro. Lavora vicino nei pezzi del mio luogo di lavoro. Quindi c'è sempre una possibilità di incontrarlo. Bisogna aspettare l'appello. Mio papà è stato fondamentale. È praticamente diventato la mia guardia del corpo. Infatti ci vado in giro quasi sempre con lui. Ricordiamo che è stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per maltrattamenti e violenza sessuale. Le donne che subiscono violenze così brutali riescono a recuperare la propria vita? Sì, riescono a recuperarle. Però appunto ha sentito nella voce di questa donna la tristezza legata al fatto che l'uomo è tornato in libertà. Nessuno viene condannato al carcere la vita per maltrattamenti o violenza sessuale. È tornato in libertà e oltretutto lavora vicino a lui. Quindi questa donna ha ancora bisogno, a distanza di molti anni, che il padre le faccia da guardia del corpo praticamente. Io non so se vi rendete conto quanto questo possa essere pesante per una donna psicologicamente. Dalla violenza sembra che non si esca. Ecco, per fortuna non è sempre così. Alcune delle norme recentemente adottate dal Parlamento italiano il 15 di ottobre sono definitivamente entrate in vigore, prevedono l'allontanamento da casa e l'impossibilità di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna. Io credo che questa norma, che già esisteva ma che verrà applicata in modo più estensivo, sia una delle soluzioni legislative importanti che sono state adottate. Tra l'altro stiamo vedendo ora il numero al quale si possono rivolgere le donne, il numero del soccorso violenza sessuale domestica. Lo vediamo in sovraimpressione. Oggi tra l'altro si apre anche il tavolo antiviolenza in regione. Io la saluto, la ringrazio per essere stata con noi. Sentiamo ora invece il racconto di chi? Delle donne che lavorano a stretto contatto con altre donne maltrattate. Le storie che più ti lasciano un'emozione grossa dentro sono soprattutto le storie delle persone che decidono di interrompere la violenza dopo tanti anni. Le donne che dopo i 50-55 anni ti vengono a chiedere aiuto dicendo adesso posso riuscire a parlare della mia storia di maltrattamento perché ho i figli grandi. Magari uno mi può dire ma perché non ti fanno rabbia? Perché a volte magari ti può fare anche rabbia il fatto che una donna non abbia in quel momento richiesto aiuto. Però la rabbia non è costruttiva. Bisogna riuscire ad accogliere la donna e anche a capire le motivazioni che non l'hanno portata a interrompere una relazione. Le donne faticano a interrompere le relazioni, le donne pensano che gli uomini possano cambiare. Prima di cambiare bisogna riconoscere di essere un uomo violento. Segnalateci le vostre storie, questi sono i nostri contatti, potete scriverci all'indirizzo email buongiornoregione.lombardiachiocciolarai.it oppure un fax allo 02317005. Potete raggiungerci anche tramite Facebook e tramite Twitter. Ed ora torniamo invece sulle strade lombarde con Radiotraffic e Mita Fermi in collegamento appunto dalla sua consueta postazione.